La maggior parte delle barche a remi veneziane si muove per la laguna a due o più remi, ma l'immagine più classica della voga veneta è rappresentata dal gondoliere che voga da solo. L'impostazione della voga a un remo per i regatanti è molto diversa da quella più remi. Qui la forcola è girata per poter governare la barca con meno difficoltà, così da immergere il remo il più lontano possibile dalla poppa della barca. La difficoltà consiste nel compensare la propria forza per non girare in tondo, visto che il remo resta sempre dallo stesso lato della barca e senza nessuno che voghi nel lato opposto la spinta risulta sbilanciata. Per evitare di girare verso sinistra come trottole, bisogna cercare di tenere il peso nella parte destra dell'imbarcazione, così da abbassare il fianco e consentire alla barca in abbrivio di tendere verso destra. Per incrementare questo spostamento del peso è necessario caricare il più possibile la gamba posteriore prima di immergere la palla del remo in acqua. Una piccola staita alla fine della vogata aiuta sempre. Ma che cos'è la staita? Mentre il corpo è proteso in avanti, si inclina un po' il remo alla ricerca di una minima resistenza per compensare la spinta data in fase di attacco. Una sorta di mini frenata. Ogni regatante ha le sue strategie tecniche per andare più veloce, chi aggiunge pesi a plua, chi voga con remi flessibili, chi con forcole altissime. Il segreto in realtà è avere una grande tenacia, perché le gare sono lunghe e in barca ci sei solo tu. Le migliori regatanti a un remo si possono vedere la prima domenica di luglio con la regata di Murano. Le categorie che competono sono tre, giovani sotto i 19 anni, donne e campioni. Mentre gli uomini vogano nelle gondole, le donne e i ragazzi vogano nei pupparini, barche tradizionali della laguna di ben 9 metri. Rovenis ogni anno schiera gran parte delle sue istruttrici per questa regata, per la quale prima si disputano le qualifiche a cronometro. Quindi se siete a Venezia la prima domenica di luglio, venite a fare il tifo per noi! Grazie!